Google analisi mensile dicembre 2020 aggiorniamo questo titolo che è da praticamente luglio che non guardiamo più vediamo che cosa è successo in questi mesi andiamo a sottolineare magari qualche nuova area e vediamo che cosa si può ricavare da questo allora evidenziamo un po' meglio il minimo della candela di marzo ok eccola qui questa è la candela di marzo qua avevamo già segnato questa fascia di prezzo vicina diciamo concomitante al minimo di marzo che aveva vedete più volte sostenuto il prezzo vedete qua diversi mesi il prezzo aveva testato quest'area di 1000 dollari e poi definitivamente riparte con gennaio 2019 ancora ad agosto scusate a giugno 2019 sembra voler ritestare ma in realtà chiude prima e poi parte con marzo abbiamo visto come il prezzo abbia di nuovo ritestato quest'area e poi abbia però riassorbito fino praticamente a 1163 il mese dopo poi con aprile abbiamo una serie di cominciamo a avere massimi e minimi comprati quindi il titolo poi rischizza praticamente su massimi assoluti in concomitanza al nasdaq che sembra inarrestabile quindi chiaramente i titoli che lo compongono sono quelli che poi alla fine muovono chiaramente l'indice allora scusate quindi vediamo vediamo un paio di livelli vediamo un paio di livelli intermedi che potrebbero essere interessanti allora abbiamo sicuramente dei minimi comprati qua che potrebbe essere già una sorta di livello diciamo intermedio se partiamo dal presupposto identifichiamo il livello di mille cifra tonda livello già testato diverse volte più minimo della candela di marzo come livello diciamo ottimale su cui entrare a mercato vediamo dove possiamo trovare delle ingressi intermedi abbiamo effettivamente cerchiamo di capire dove a mercato sono entrati gli investitori in maniera un po' più massiccia ok abbiamo detto qua verificandolo poi confermandolo poi con la candela di aprile abbiamo questa candela di maggio che compra i massimi della candela di aprile abbiamo poi un giugno e un luglio abbastanza insignificanti abbiamo di nuovo poi un po' di indecisione tra agosto settembre ottobre però di fatto si può dire che la candela di ottobre compri i minimi della candela di giugno scusate di agosto vedete qua qui c'era la possibilità di un entry tra l'altro vedete che anche il tetto di questo di questi mesi qua che non era riuscito 1468 1450 insomma questo livello qua e poi un ultimo livello diciamo recente ora poi vediamo effettivamente su quali poter pensare di 1678 che diventa appunto il livello del massimo comprato di novembre su ottobre ora appunto in conseguenza anche al fatto che il nasdaq stia spingendo ancora sui massimi abbiamo una candela di dicembre che sembra partita con con larga spinta in questo momento praticamente stiamo quotando sui massimi assoluti 1818 1820 quindi insomma non abbiamo in questo momento possibilità di identificare eventuali aree di target perché non siamo sui massimi assoluti quindi non abbiamo storico non abbiamo prezzo non abbiamo i dinamiche precedenti a questo livello sono livelli nuovi che il prezzo sta creando possiamo però appunto dire che sicuramente in questo momento stiamo quotando sui massimi sembra che la candela stia riassorbendo il massimo del mese scorso di novembre quindi chissà ora all'8 dicembre potrebbe anche cominciare magari a stornare un pochettino quantomeno magari fino a quest'area c'è da dire che ci sono le scadenze dei future il 18 il 18 il 20 e di solito si cerca sempre di forviare gli investitori i trader anche no portandoli a sofferenza fino a quando poi scambia cambia la scadenza del future e poi far invertire il mercato quindi è anche facile che fino a quella data il mercato continui a tirar su oppure invece ci può essere un po' di aumento di volatilità prossimamente proprio per cercare di far stornare un pochettino il titolo il titolo in generale gli indici e il mercato e poi ripartire per il rally di Natale fino al 30 al 31 dicembre quindi vabbè queste sono considerazioni che hanno poco valore quello che vediamo appunto sono questi livelli che ho identificato e direi che al momento l'unica cosa da fare è aspettare almeno almeno questo livello direi che non c'è da fare niente niente prima se non rendersi conto che in questo momento abbiamo un mercato che continua a comprare minimi e compramassimi quindi è un mercato assolutamente long che non venga in mente a nessuno di shortare a parte che vabbè in ottica di investimento non è una cosa che si può fare che si fa perché comunque i costi per rimanere aperti overnight short in base anche ai broker sono sulle azioni poi soprattutto l'indice è un po' diverso i future sono un po' diversi ma sulle azioni è una roba che insomma è abbastanza improponibile se non al limite intraday ma questo è un altro tipo di lavoro non è oggetto delle nostre analisi su questo canale quindi niente dobbiamo necessariamente aspettare come prima area 1673 e come seconda area già migliore già meglio 1466 lasciamo le tutte e tre tutte e quattro queste aree sappiamo che più il prezzo va a prendersi il livello più basso più abbiamo un ottimo ingresso rischio con rapporto rischio rendimento teniamo conto che il titolo è marcatamente spudoratamente long quindi anche un ritracciamento un po' più importante non inficerebbe questo trend ok quindi cerchiamo di avere un po' più possiamo avere possiamo permetterci un po' più di tranquillità su questo titolo purché chiaramente magari non non su questo primo livello che può darci comunque subito lo spunto per un guadagno ma sicuramente sarebbe opportuno provare a cercare di aspettarlo sotto su questi livelli qua se non addirittura magari a 1000 però bisogna vedere anche lì se poi ci arriva di nuovo a 1000 perché chiaramente ora stiamo quotando praticamente quasi al doppio ok quindi niente niente per quello che riguarda l'aggiornamento di google è tutto ci vediamo alla prossima con la prossima